No, assolutamente nessuna preoccupazione. Bisogna capire che in alcune circostanze ci possono essere dei deficit, ma sta nel normale sviluppo di un servizio. Non tardano ad arrivare le rassicurazioni del sindaco di Tricase Antonio De Donno circa la normale erogazione del servizio di continuità assistenziale nella città salentina dopo le preoccupazioni nate in seguito all'affissione di un foglio sulla porta dello studio medico, il quale annunciava la sospensione delle attività di guardia medica nella giornata di domenica 8 settembre per carenza di personale. E indicava di recarsi a Migiano per ricevere assistenza, una comunicazione che ha messo in allerta cittadini e residenti anche riguardo il futuro, motivo per il quale il primo cittadino ha voluto spiegare quanto accaduto. Un servizio così importante non può né essere chiuso né essere sospeso. In Tricase abbiamo quattro medici di servizio in guardia medica. È chiaro com'è accaduto in questo caso, che se due sono assenti per malattia o per ferie, gli altri due hanno coperto le notti. In questo caso si trattava della notte di sabato e della notte di domenica. La mattina del sabato è stata coperta con un medico che proveniva dall'altra guardia medica. La mattina della domenica è rimasta scoperta, ma questo è un istituto contrattualmente previsto, è l'istituto del vicariato, per cui ci si appoggia al medico di guardia medica del paese più vicino o disponibile. In questo caso è a Migiano. Cosa vuol dire? Che se c'è un'emergenza fisica, ne qualcuno si è arrecato in guardia medica, trova l'avviso, può scegliere anche di andare al pronto soccorso. Fortunatamente abbiamo un pronto soccorso di eccellenza. Nel caso in cui si telefona, il medico, in questo caso è successo, perché si chiedeva una domiciliare, il medico da Migiano è venuto a Tricase e ha fatto la domiciliare. Quindi è un istituto contrattualmente previsto, non c'è nulla di strano e nulla di nuovo. Alla rassicurazione della normale erogazione del servizio di continuità assistenziale, ha fatto seguito anche una promessa da parte del primo cittadino. Stiamo per concludere un affidamento ad Asle di un immobile nuovissimo per ospitare la nuova guardia medica. Nel prossimo consiglio comunale verrà messo all'ordine del giorno, per cui a brevissimo avremo la nuova guardia medica in via Sant'Omaso da Quirono, un immobile nuovo.